gentili telespettatori buona giornata lo scrittore roberto saviano diventato ricco e milionario grazie ai suoi best sellers come gomorra che ha venduto quasi o ha superato le 15 milioni di copie lui festeggia il primo marzo e critica il lavoro dice l'orrore del profitto dell'occupazione l'orrore della fatica in internet dicono ma stai prendendo in giro che si fa il mazzo tanto e lui dice no io non prendo in giro nessuno sto facendo delle riflessioni così ad alta voce ma attenzione un elogio al dolce far niente ma davvero saviano sta elogiando la fat sta elogiando il non fare nulla lui parla dell'orrore del profitto e col profitto che poi ci paghi le persone che poi vanno a comprare al supermercato la mozzarella e quindi sarà anche orrorifico il profitto ma il mondo va avanti così l'orrore dell'occupazione della fatica beh purtroppo sarebbe bello dire che non siamo nati per lavorare voi lo sapete che si comincia il lunedì mattina molti si alzano alle 5 per essere non so a milano roma napoli in centro alle 8 treno metropolitana camminare per poi tornare la sera a casa alle 9 il tempo neanche di mangiare una roba lì aprendo il frigorifero e sei di nuovo a dormire perché il giorno dopo devi affittare il tuo tempo a un datore di lavoro è uno che dà lavoro voi affittate il vostro tempo in cambio la giornata in cambio magari di 70 euro lordi 60 euro lordi state affittando la vostra vita a un datore di lavoro e sì c'è qualcuno che vi paga che paga il vostro prezioso tempo per fare profitto fatica e sì c'è chi come saviano riesce a guadagnare tanti soldi in più della media e a fare molto meno della media è un po il sogno di tutti guadagnare tanto e lavorare poco ma oggi la il diciamo che il minimo comune denominatore è lavorare tanto e guadagnare poco saviano è uno che è riuscito a saltare dall'altra parte è riuscito a saltare ed arrivare tra quelli che lavorano poco e guadagnano tanto non conosco saviano ma non credo che si alzi alle 5 del mattino e lavori fino alle 9 di sera ininterrottamente fuori casa naturalmente poi in internet arrivano le solite persone che rispondono per luoghi comuni senza fare un minimo di riflessione su quello che su quelli che sono i motivi per i quali una persona dice certe cose e poi arrivano i giornali che deridono saviano per aver detto che il lavoro è fatica nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori lo scrittore campano si lancia in un ode contro la fatica il lavoro perché ha spiegato citando il poeta andrea breton andrea breton non serve a niente essere vivi se bisogna lavorare e grazie al cavolo io vi devo dire che ho fatto tanti 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 anni la vita quella di alzarsi la mattina alle 5 e tornare la sera alle 9 ho fatto per tanti anni e vi devo dire che è deprimente trascorrere la propria vita affittando il proprio tempo a qualcuno che ti dà i soldi per mangiare o poco più e va bene bene poi saviano in un post dice l'orrore del profitto l'orrore della competizione l'orrore del merito l'orrore della precarietà l'orrore della disoccupazione l'orrore dell'occupazione perché è orrorifico essere occupati ed è orrorifico essere disoccupati e poi dice l'orrore della fatica e aggiunge c'è stato un mondo in cui esistevano organizzazioni politiche che volevano abbattere il lavoro in cui gli intellettuali cantavano l'ozio e la pigrizia come condizioni uniche di libertà in cui le menti credevano che la tecnologia avesse una sola direzione liberare l'umanità dalla fatica e del lavoro salariato tu puoi pensare tutte queste cose sicuramente se non ti sei alzato questa mattina alle 5 per andare al lavoro se sei uno di quelli che si addormenta sul treno mentre va al lavoro la mattina non hai tempo di filosofeggiare con il milionario Saviano sull'ozio e la fatica del lavoro l'orrore del profitto e del lavoro certo sarebbe bello poter fare quello che uno piace dice ti piace costruire dei tavoli ti piace lavorare il legno fallo però la società non può andare avanti con 8 miliardi di persone che si dedicano agli hobby chi ha il legno, chi ha il giardinaggio diciamo che oggi al mondo le persone che possono fare quello che fa Saviano quello che fanno molti politici che è quello di lavorare poco e guadagnare tanto perché oggi il vero capitale il vero capitale che hanno le persone è il tempo libero è quella la ricchezza non è lavorare 15 ore al giorno per 8 mila euro al mese dal lunedì al sabato avendo quattro giorni liberi al mese la tua vita si riduce a quattro giorni liberi al mese dove stai già pensando al giorno orrorifico successivo grazie a tutti e arrivederci a presto